Andiamo Sì Ma andiamo avanti Sono tutti Allora ragazzi, benvenuti sono i nuovi Noi, non noi ci portiamo le considerazioni Mi sembra giusto Ma ti sai qualche modo? Vediamo questi in realtà No, perché non c'è nulla a portare nessuno Quella la fai Ciao Gisela Ciao Gisela Allora, possiamo praticamente partire poi Tra gli avanti al comprenato E lo studio E ci sarà un sorpresino a fine Poi vi vedrete Sì, ma qui si togliamo Possiamo ripartire? E partiamo Sì 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 Oh 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.